Siamo molto molto consce che noi dobbiamo rimanere fedeli al campo, è quello che ci ha portato fino a qui, al campo, ai nostri valori. Sono parte importante del calcio femminile perché è un calcio che è ancora alla passione pura quasi direi, se siamo qui oggi. Quindi noi siamo molto molto piantate con i piedi per terra, allo stesso tempo ci godiamo il momento. Parlo prima, molto durante gli allenamenti o se devo scambiare opinioni con le mie compagne, questa è una cosa costante. Non il giorno della partita, il giorno della partita c'è da andare in campo e dare l'esempio e poi basta uno sguardo, non servono le parole. Credo che oggi, ad esempio nel nostro paese, piano piano ci si stia accorgendo che invece il calcio femminile può essere una ventata d'aria fresca per il calcio e quindi è bello che finalmente veniamo percepiti in maniera differente e ovviamente siamo all'inizio di questa cosa e piano piano scardiniamo barriere.